Amici di Tom's, bentornati sempre qua dal CES di Las Vegas. Parliamo anche di scarpe intelligenti. Questo è un prodotto fatto da Digitsoul, uscirà l'anno prossimo. È una sneaker, una scarpa normale, ma in realtà ha la possibilità di riscaldare il vostro piede tramite dei sensori, è un sistema ovviamente messo nella soletta, e anche di contare i passi. Ovviamente si collega tramite Bluetooth a un'applicazione e vi darà tutte queste informazioni. Ha una batteria integrata, vediamo qua l'indicazione del Bluetooth, diceva ha una batteria integrata, e per ricaricare questa batteria servirà una basetta a induzione, appunto per una ricarica di tipo induzione magnetica. Oltre a questo prodotto, che potrei definirlo unisex, però rivolto più al pubblico maschile, abbiamo proprio anche una scarpa con tacco, quindi ovviamente per signore e signorine, vediamo che tutta la parte della circuteria e la possibilità di riscaldare il piede è integrata in questo tacco anteriore. Ma Digitsoul va anche oltre perché quello che è niente è questo modello, che probabilmente uscirà verso la fine del 2016. Il look sicuramente futuristico, ricorda un po' la scarpa di ginnastica di Marty McFly in Ritorno al Futuro, oltre alla caratteristica che abbiamo già visto anche nelle altre scarpe, quindi la possibilità di riscaldare il piede, contare i passi, ha anche un sistema di chiusura automatica tramite un'applicazione, e nella parte qua anteriore ha dei led che permettono di illuminare il cammino mentre appunto camminate. Per i due prodotti che vi ho fatto vedere prima, la scarpa da uomo e da donna, il prezzo non è assolutamente basso perché si parla di circa 350 euro, mentre per questa non si sa ancora, però immagino 450-500 euro. Quindi preparatevi a ricaricare anche le scarpe perché se no non potrete utilizzare le varie funzioni come il riscaldamento del piede, ma anche la comunicazione tramite bluetooth, pronte per le scarpe intelligenti, io direi che qui dal CES è tutto, e noi ci vediamo in un altro video, ciao! Grazie!